Allora, mio caro Lance, figlio mio, hai fatto terzo, e sorridi, sii contento, fai qualcosa, nel senso, non è terz'ultimo Lance Stroll e te, forse non l'acca, sei imbrogliato Avesse rubato a qualcuno, ha fatto anche un'ottima qualifica, ottimi tempi, oggi si piazza davanti al suo compagno di squadra, meritatamente, non c'entrava il Q3, poveretto dal belgio, finalmente lo c'entra davanti a Fernando Alonso e mi porta a casa anche la top 3 E ragazzi, signor, cioè, ok, cioè Lance esiste quindi, è un pilota, è un pilota forte, l'abbiamo visto, povero Cristo, vieni sempre attaccato, sorridi, sii contento, fai vedere che, ah, che poi forse in realtà la faccia di Stroll è un po' l'emblema di come sta in questo momento l'ambiente Aston Martin Perché Fernando Alonso è accostato a Red Bull, lui è accostato proprio fuori dalla Formula 1, ci sta che magari la vivi in maniera diversa C'è chi si carica, tipo Fernando Alonso, l'abbiamo visto, ha risposto molto bene, ha risposto anche in maniera molto forte a quelle che erano le voci che lo vedevano in Red Bull E poi c'è Lance Stroll che reagisce a modo suo, ma reagisce, fa vedere che ci tiene, ragazzi, questo è molto importante perché spesso non abbiamo visto Stroll così vicino ai big Davanti a lui ci stanno Leclerc e Verstappen, vabbè Verstappen ormai è abituato a fare la pole position e va benissimo, soprattutto in queste condizioni di incertezza, piove o non piove Alla fine ci sta che si impone lui, è sempre un passo avanti in queste condizioni Poi c'è Leclerc, seconda posizione, entrambi i Ferrari ci avevano mostrato che potevano andare bene in qualifica, forse un po' sfortunato Sainz, parte ottavo, non ha avuto la possibilità di fare il tempo Bandiera rossa a 4 minuti alla fine, che poi in realtà era anche cambiato il vento, probabilmente comunque non si migliorava nessuno Perez aveva un secondo e mezzo di stacco dalla pole position, non aveva proprio girato, forse lui poteva fare qualcosa di meglio, ma difficilmente potevano modificarsi tanto le posizioni E anche per questo è stato bravissimo Lance Stroll ragazzi, perché ha sfruttato quell'occasione, sapeva che poteva venire a piovere, sapeva che poteva crollare il meteo Alla fine è crollato, è venuto a piovere, bandiera rossa da parte della federazione, e parte terzo Questa qualifica è probabilmente la più meritata da quando corre in Formula 1, sicuramente una delle più importanti Subito dopo di lui, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, peccato per Lewis, peccato anche per Russell in realtà perché il passo gara che hanno entrambi secondo me è molto molto buono Poi ci arrivo con più calma, vederli partire dietro non è proprio una cosa entusiasmante Non gli rende tanto giustizia, che poi la gara è comunque domenica, non è difficile superare e Hamilton lo sa benissimo in Brasile Ricordo che nel 2021 partì ultimo e arrivo primo Quinto Hamilton, sesto Russell, settimo Lando Norris, ottavo Carlos Sainz, nono Perez e decimo Oscar Piastri Non so come l'avete vissuto a voi, ma per me sono state delle belle qualifiche, adoro quando il meteo è così incerto, mi dà belle vibes Sono anche da vedere a livello estetico, è molto bello Dà più valore a quello che fanno i piloti in pista, soprattutto se si stravolge il meteo e all'ultimo giro invece di avere il vento pro ce l'hai contro Ti cambiano 5 km orari di differenza, chi era prima sui 3.33, 3.34 km orari adesso era sui 3.28, 3.29, che comunque sono decimi Qualifica quindi per me divertente, poi sono contento di vedere comunque le Clerc non troppo lontano rispetto alle prove libere La mia paura era che quei tempi lì venissero contestualizzati male, dato che comunque le Clerc e Sainz avevano fatto il giro veloce alla fine delle prove Quando la pista era più gommata, il gap da Russell era di un decimo, ma Russell aveva fatto il tempo molto prima, quindi in teoria era andato meglio Russell La Red Bull poi aveva girato soltanto con la Arda, se guardi la classifica magari non seguendo benissimo nella testa era un'ottima Ferrari Una Ferrari normale, non malissimo col degrado, è la più forte di rettilineo per quanto riguarda le velocità Mentre in curva soffre un po', tanto sotto sterzo anche se già in qualifica si è migliorati, soprattutto con la monoposto di Leclerc Per questo è fondamentale centrare gli setup subito, perché dopo poi puoi agire soltanto sull'ultimo flap dell'ala anteriore Che ovviamente non ti fa miracoli, non malissimo quindi il degrado, macchina abbastanza scorbutica per entrambi i piloti Ferrari E il passo per entrambi con gommarde, sul 15 e 6, 15 e 8, Leclerc un pelo sotto Carlos Sainz, ma non sappiamo i carichi di carburante ragazzi È sempre il tema del weekend sprint, Leclerc mi fa un 15 e 6, Verstappen mi gira in 17, sì però probabilmente il tre volte campione del mondo mi ha girato con tanto carico di carburante Mentre Leclerc e Sainz forse più scarichi, e non per questo possiamo dire che la Red Bull è in difficoltà, assolutamente Power unit un pelo più conservativa, avevamo comunque una monoposto stabile, tranquilla, andava ovunque, anzi sembrava quasi un lavoro di perfezionamento Come se la macchina fosse già pronta, che poi in realtà ci può anche stare come mini analisi, come approccio da parte di Red Bull Soprattutto se lo diciamo affiancando i risultati in pista con le parole che ha detto Horner Alla fine delle prove ti va in conferenza stampa e ti dice, noi abbiamo imparato tanto dall'anno scorso, dove non è stato il miglior weekend per la Red Bull Tant'è che Mercedes ne uscì vincitrice in quel caso E quindi parliamo di un 17.4 con gomma hard per Max Verstappen, un 17.8 con gomma hard per Sergio Perez Probabilmente entrambi con tanto carico di carburante, un buon passo se con tanto carico di carburante Ma è tutto un'incognita, certezza che non ne abbiamo, assolutamente, anzi Mentre con Mercedes non si è capito se han girato con tanto carico di carburante o con poco carico di carburante Sia Hamilton che Russell, hanno girato entrambi sul 16 Banalmente guardando i tempi ti viene da dire, sì, sono carichi di carburante, però in curva andavano molto veloci Soprattutto nelle curve veloci andavano che una bellezza Immaginiamo col sorriso che avevano un carico medio, però insomma stiamo proprio parlando del nulla Facciamo prima dire che non lo sappiamo Comunque per completezza Hamilton ha girato sul 1.16.4, mentre Russell ha girato sul 1.16.3 Tempi simili, ci sono anche loro Un discorso analogo lo possiamo fare con Fernando Alonso, un pelo meno con Lance Stroll Che non è al passo del suo compagno di squadra, ma c'è anche lui partendo davanti Poi magari trova quel qualcosa emotivo, non lo so Però Lance parte terzo è già una grandissima incognita Ricordo parte terzo per la gara della domenica, perché c'è gente nei commenti che me lo chiede Io rispondo Ultimissima cosa, che forse è anche quella più sostanziosa, a parer mio, dopo le prove libere Cristian Orne si è aperto sul futuro di Daniele Ricciardo, si è aperto sul futuro di Jaco Perez Si è fatto una crociata su Fernando Alonso e su chi ha messo in mezzo questa cosa Vabbè, non è successo niente, non vedremo questo pilota in questa macchina, grafica bellissima Che non si realizzerà mai, non c'era neanche bisogno di farne una grandissima questione Questo clima ci ha dato delle notizie In teoria Jaco Perez, ragazzi, l'anno prossimo rimarrà in Red Bull E questa è una notizia, io non ne sono poi così sicuro Sappiamo come sono i metodi di Red Bull Darlo per certo non è cosa giusta Se da un lato ha difeso Perez, dall'altro ha anche espresso parole molto positive nei confronti di Daniele Ricciardo Perché ha detto che nel 2024 lui sarà un pilota Alfa Tauri Ma nel 2025 sta lavorando per occupare il posto di una Red Bull ufficiale Constatato che Alonso non ci va in Red Bull Può essere che Ricciardo, se Perez continua a fare male, gli prende il posto Vediamo come va la gara del Brasile Vediamo domani in sprint, vediamo dopodomani in gara Io ovviamente commenterò tutto, quindi iscriviti, mi raccomando Bene, io il mio l'ho fatto Adesso lasciate like, iscrivetevi, ve l'ho detto due secondi fa, nel dubbio lo ripeto Seguitemi i social, mi raccomando, Instagram e Whatsapp Perché vi ho aggiornati in tempo reale lì Tra l'altro ho goduto sul stroll, cioè nel senso sono molto contento di vedere stroll terzo Per me è il Goat dopo la TV Ma adesso io vi saluto da Antonio E da tutto Passo e chiudo Per me è il Goat dopo la TV Per me è il Goat dopo la TV Per me è il Goat dopo la TV